cari amici di circo sottosopra io vi devo dire che sono proprio un bagnaggio scusatemi no davvero non ci siamo dimenticati di voi è che diciamo che abbiamo pensato di creare un bel momento per ringraziarvi di ciò che avete fatto per noi con la campagna arti libera a tutti vi ricordate era la primavera scorsa adesso è passato un po di tempo però grazie a voi circo sottosopra ha potuto continuare con i suoi progetti e adesso ha anche una casa sì sì e questa casa noi la inaugureremo sì la inaugureremo il 6 e il 7 dicembre sì non ci limitiamo però a chiamarvi per dirvi bla 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 come siamo bravi no 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 noi creeremo anzi abbiamo creato una rassegna che si chiama bolle sì due giorni di inaugurazione con performance spettacoli e una mostra fotografica ecco quindi vi aspettiamo anche perché voi siete i nostri ospiti speciali e vi daremo tutte le ricompense che vi aspettavate da qualche mese però dai così almeno vi abbiamo allietato un po l'inverno no ecco e mi raccomando venite perché poi ci sarà una cosa che per me è molto molto importante il cibo si mangerà tantissimo si berrà il giusto e poi si ballerà perché ci sarà anche la musica e poi beh voi portatevi un ombrello che non si sa mai l'importante è mangiare ciao ciao